Ciao a tutti quanti ragazzi Questo è un video per ringraziare i 598 iscritti Quasi 600 Vi ringrazio di cuore perché Voi mi state seguendo, mi state sopportando Mi state vivendo Ogni minuto in più è un minuto per me di vita No, a parte gli scherzi Sto dicendo cazzate Comunque, qui con me c'è anche un'altra persona Sono il fantasma formaggino Esatto, poi vi starete sicuramente chiedendo chi è Ragazzi, è quello che mi ha fatto il disegnino per ringraziamento dei 598 iscritti È Gabriele PRG Eccomi, salve a tutti e benvenuti In questo video vi spiegheremo sia novità che i ringraziamenti Perché ci state, diciamo, sopportando o vivendo Sì, vi starete chiedendo Bayon, ma cosa ti è successo alla tua faccia? Non lo so manco io Ho preso una sostanza e sono diventato invisibile Per un po', non lo so Ha giocato troppo a Minecraft Ha preso una pozione invisibilità Esatto, come dice sempre Gabriele nei miei video Ah, a proposito Nella DNS Tatchpack ci saranno dei nuovi aggiornamenti Voi vedrete dei video Vedrete, diciamo, noi che facciamo delle cose nuove Dei macchinari Se vedete alcune volte dei macchinari che sono stati velocizzati Però noi diciamo il macchinario Andate a cercare come si crafta alcune volte Perché noi, diciamo, non vogliamo so farvi vedere 40 minuti ogni volta di video Quindi in pratica ogni tanto Quando creiamo dei macchinari Per andare a cercare gli item che dovremmo utilizzare Ci mettiamo un po' E allora all'incirca facciamo Velocizziamo il video In poche parole Ma non è perché non vogliamo farvi capire come si fanno i macchinari Ma perché tanto Se voi giocate a quel gioco E andate a cercare tipo Come si fa il macceleratore Il macceleratore, come si chiama quel macchinario Macceleratore Esatto Voi se andate lì comunque Basta che voi cliccate l'altro item precedente Quello che, diciamo, vi servirà per poi creare il maceratore E vi dice come si crafta Se poi dopo voi non riuscite proprio a creare quell'item Perché ci vuole tipo due polverine da unire Allora basta che ce lo chiedete nei commenti E noi vi daremo una mano su quel macchinario Nessun problema Io e Gabriele stiamo facendo la serie della DNS Tatchpack Come vi dico sempre dovete iscrivervi al canale di Gabriele Perché altrimenti vengo di notte e vi uccido nel sonno Grazie a chi lo farà comunque Esatto Cioè vorrei che voi andaste a vedere anche dei canali nuovi Non sempre sopportare a me Perché vi dico una cosa Io quando faccio dei video con qualcuno ad esempio Diciamo Lo faccio una serie con quella persona perché merita Cioè io vi sto dicendo che Gabriele è più bravo di me a fare video Perché diciamo la verità Lui fa video su Minecraft Ha studiato Minecraft Sa fare cose su Minecraft Cose che io neanche domani mattina riesco a imparare Perché i macchinari sono difficili Lui ha imparato, ha studiato grazie a Luke Perché lui ha guardato i video di Luke appunto Io non lo guardo mai Luke E in pratica E tante cose le ho imparate da lui anche Le ho imparate da lui Quindi ragazzi se voi volete imparare però ancora più semplice Ancora più semplificamente le cose Semplicemente al massimo Vabbè quello È che siccome sono invisibili ragazzi Il mio cervello è invisibile Quindi automaticamente sono invisibile Quindi non ha un cervello Spara parola a random A random Quindi in poche parole cosa vi volevo dire Che lui comunque ve le spiega ancora più semplicità le cose Vi spiega proprio dettaglio per dettaglio come si fanno i macchinari Cose che magari se Luke fa un video su un macchinario Non vi spiega dettaglio per dettaglio Magari lo fa velocemente così e non vi dice nulla Io non lo so come opera Luke nei video Ma comunque Gabriele se voi volete andare nel suo canale Volete iscrivervi Io vi dico Comunque vi consiglio di iscrivervi al suo canale Perché comunque ha fatto anche delle altre serie su Minecraft Ha fatto la Stellacraft Ha fatto la Mi ricordo La Techit Mi ricordavo la FTB ma non è vero Tu non hai fatto No anche la FTB ho fatto Ecco anche la FTB Potete imparare Però calcolo che la FTB è lancio Poi la Stellacraft e le altre sono tutte dentro il pacchetto FTB Ah ok Vi insegna anche quelle altre cose La Techit e le altre mod comunque di Minecraft Che io non ho mai imparato Infatti ragazzi io sto imparando Infatti l'ha notato anche Gabriele Che ha scoperto che io non ho mai fatto una Una mod di Minecraft Quindi io sto iniziando da una Diciamo che ha sempre giocato al vanilla Esatto al vanilla E io sto imparando a giocare Alla Non ho mai fatto la Techit Non ho mai fatto la La DNS Techpack Quindi la DNS Techpack Sarebbe l'unione di tutte quelle mod Che c'erano prima Che infatti sono più di 200 Macchinari O saranno più di 200 mod Sono oltre 200 Sono 200 mod Che invece io da imparare Prima dalla Techit Che ce ne sono molto bene Non sto già imparando da quella difficile Sì invece di partire da semplice Magari come si fanno i mattoni Lui parte già come si fanno gli shuttle Esatto Quindi immaginatevi il mio livello Livello proprio celebrale Come si può decomprimere In una sola cosa Guarda Ha usato così tanto il cervello Che è diventato invisibile Da quanto si è consumato Va bene Mi sono offeso Comunque ragazzi Volevo chiedervi un'altra cosa Proprio tutto per l'invisibilità Io Adesso vi starete chiedendo Come cazzo fai a diventare invisibile Bayon Non ve lo dirò mai È inutile che me lo chiedete Non ve lo dirò mai Sta usando fili di pesca Esatto Lui non è davanti alla telecamera Esatto Questi qua si stanno muovendo automaticamente Con dei fili Non sono io che parlo Anche se faccio È una marionetta Esatto vedete Sono una marionetta Però voi vi direte Ma le mani si muovono Sì Perché queste mani Non le ho rese invisibili Se no non capirete nulla Capito Comunque A parte gli scherzi Sto usando un chroma key Un green screen Come vi ho già detto Nei miei video E quindi l'ho messo anche in faccia Non è molto Non è difficile Basta annullare il colore Verde E sei a posto Sei invisibile Mi sto Sono andato dalla start E mi sono fatto fare Diciamo un telo verde Adesso Questa qui non è questa Comunque il telo verde Comunque Cioè Questo qua È un telo verde Che ho preso Dall'altro green screen Così a cacchio L'ho tagliato E me lo sono fatto Me lo sono un po' Messo dietro A mo' di sciarpo Intorno alla faccia Esatto Invece L'altro telo verde Che ne ho due L'altro Gli ho detto Di farmi una specie di striscia Come si fa con le mumie Come dovete mumificare le mumie Avete presente Ecco Quello lì Gli ho detto di farmelo Una cosa Una striscia lunghissima Così a meno Nei prossimi video Se lo voglio usare Non devo stare tutto il tempo A torcigliarmi dietro Il telo Direttamente Me lo metto tutto intorno Così nella testa E divento una mumia Faccio prima Cioè semplifico le cose Poi soprattutto anche le pelle ombre Infatti alcuni momenti Vedrete delle Non perfettamente Infatti lui è una delle prime persone Vive mummificate Esatto Ma soprattutto Altre novità Cambierò webcam Comprerò una nuova webcam Perché questa qui È della C270 Della Logitech Io mi sto prendendo L'ultima della Logitech La 920 Sì Mi direte Cazzo Ti compri subito L'ultima webcam Sì Perché io sono così Io in pratica Aspetto sempre Le ultime versioni Cioè io per esempio Prendo la C270 Poi magari fanno Tre webcam nuove Io prendo la quarta nuova Perché tanto so già Che le tre nuove Non sono così tanto Alte di qualità Cioè non cambiano di molto La C270 E invece la C270 Diciamo vai in 4 in 4 Vado in 4 in 4 appunto Perché la La Logitech Se vado in 4 in 4 Magari hanno messo Delle cose più aggiornate Più nuove Infatti la C920 C'ha delle cose nuove Che le altre tre Webcam non hanno Tipo non possono fare Video tridimensionali Tipo che vedi Gli oggetti Come se tu metti Tipo una matita Io la metto qui L'altra la metto Un pochettino più avanti Si vede la tridimensionalità Si vede che la matita Che ho indietro Si vede che è dietro Invece quella davanti Si vede che è davanti Invece con queste vecchie Non si può fare Cioè se io le mettessi Anche tutte e due Così si vede Comunque che sono Che sono uguali Cioè nella stesso punto E' la cosa brutta Non sono prospettiche Esatto Appunto Queste parole Che sta usando Io non so che cosa vogliono dire Ma la sono appena inventata Non so se esiste Però era carino da dire Esatto Quindi ragazzi Questi Queste novità Ci saranno nel canale Ogni tanto magari Mi voglio fare Cazzate nuove Voglio fare Tipo mettermi invisibile Parlare Con il microfono Con gli occhiali Perché non vi voglio tappare Anche gli occhi Sennò non vedo un cazzo Quindi metto gli occhiali Perché Così vedo Però in ogni caso Non ho messo niente Dietro agli occhi Perché sennò non vedo un tubo Perché questo green screen Siamo su youtube Come fai a non vederlo Come siamo su youtube Eh Hai detto che non vedi un tubo Siamo su youtube Cavolo Lo vedi youtube Ok Ma tutta brutta E' il tuo tubo Youtube Quindi ragazzi Vi sto dicendo Che già dal Anzi Perché voi adesso vedrete Questo video Prima del settimo episodio Della dns Tatchpack E mi sono messo invisibile Nel settimo episodio Come mi vedrete adesso Quindi questa diciamo È la prima volta Che mi vedete Ma non è la prima volta Perché la dns Tatchpack Che l'ho fatto prima Di questo Quindi Eh Sì siamo Siamo molto avanti Siamo già al nono episodio E Li carichiamo man mano Li carichiamo man mano Tempo di crearli Renderizzarli Bla 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 Infatti se voi vedete Tipo la dns Tatchpack Adesso ancora in questi giorni Che carico dns Tatchpack Perché se no ragazzi Se io carico Amnesia dns Tatchpack Dns Tatchpack Amnesia Dns È un casino Siccome tanto adesso Io farò solo queste due serie Per adesso Dns Tatchpack Che durerà un casino Di episodi E Amnesia Amnesia sta quasi per finire Ragazzi Cioè al quattordici Cioè al quattordici quindicesimo episodio È finito Amnesia Ci sono rimasto male Perché il padre Eh Si scopre che alla fine Cioè i due bambini Che ci sono nel gioco Si scopre che Alla fine Siamo noi Il protagonista Il padre E E lui Per evitare che i figli Morissero nel futuro Li ha Li ha ammazzati prima Questa Diciamo Non voglio spoilerare È rovinato il finale Non c'è più bisogno di vederlo Esatto Non c'è più bisogno di vedere il gioco Io quando ci sono rimasto All'ultimo episodio Che comunque dovete guardare gli episodi Perché non è soltanto perché vi ho detto Un piccolo spoiler Eh Diciamo Non è più bello il gioco È perché tanto Farò un altro video speciale Di Amnesia Dopo che l'ho finito Dove vi leggerò Veramente la trama Cioè la vera cosa Che è successa in quel Nel gioco Perché Nel gioco Diciamo Io vi ho detto adesso Un piccolo spoiler È che lui in pratica Ammazza i figli Perché Non vuole che nel futuro Loro muoiano Però Non è proprio così la trama Cioè nel senso che Ci sono dei altri motivi Per cui lui l'ha fatto Questa cosa Non è solo per quello Quindi in pratica Vi farò un video Dove vi leggerò La storia di Mendus E la storia dei due figli Cioè Edwin E Enoch Che sarebbero i due figli E E vi spiegherò Lui cos'è Com'era lui Come persona Prima che Che succedesse Tutto sto casino Dei pigli Dei maiali E quindi vi racconterò Tutto quello che è successo Dall'inizio alla fine Perché Nel gioco Voi sicuramente Non avete capito nulla Perché i messaggi Che leggevo E' talmente incomprensibili Che Non ho capito Manco un cavolo io Del gioco Perché alla fine Quando ho finito il gioco Ho dovuto Andarmi a leggere Tutta la trama Del gioco Perché non avevo capito nulla Perché i messaggi Erano tipo Quando scortai La persona Si allontanò E poi dopo Successo il linguaggio antico Non ho capito un tubo Infatti il burto di amnesia È quello Che parla in linguaggio antico Usa parole Che tipo Devi mettere l'accento Invece non c'è Alcune parole Che Non si capisce Quindi alla fine È un casino Quindi ragazzi Vi farò un video Dove vi spiegherò Ben bene La trama di amnesia Perché la trama Ti colpisce Proprio Cioè la trama Ti fa Ti rende triste Perché la storia Di Mendus È triste Perché alla fine Lui ha fatto di tutto Per i figli Lui si è fatto in quattro Per i figli Però per evitare Che succedessero Questi casino Ha dovuto fare una scelta La scelta di un padre Secondo me È la cosa Un pochettino Più difficile da prendere O anche di una madre È difficile da prendere Decidere se far soffrire I figli più avanti Negli anni O non farli soffrire E allora ucciderli Questa è La trama di amnesia Veramente Quando questa persona Crea questi giochi qua Ogni volta Mi ha sempre colpito Anche quello di The Dark Descent Mi ha colpito Perché anche quella trama Lì di amnesia Era bellissima Lui doveva fare una scelta In The Dark Descent Se uccidere quello lì Che voleva distruggere il mondo O morire Cioè lui poteva Scegliere O di distruggerlo E scappare O di non scappare E morire insieme a quella persona Perché nel gioco ci sono tre finali Se mi ricordo Invece in questo di Amnesia The Dark Descent Cioè Amnesia Machine for Pig Non c'è un finale alternativo Cioè tu finisci il gioco Appunto Non c'è un'altra soluzione E lo scoprirete se Mendus Scapperà O morirà Uno dei due Non si sa Perché non ve l'ho detto E quindi Questo è l'unico punto interrogativo Che vi rimane Cioè se Mendus Nella fine del gioco Morirà O altrimenti Riuscirà a salvare I suoi figli Appunto Quindi Niente di Niente di così importante Cioè volevo solo ringraziare I 598 iscritti Quasi 600 Speriamo di salire sempre più in alto E aiutare anche gli altri Perché tipo Gabriele Sto facendo video con lui Anche perché Voglio che lo conosciate Perché è una persona bravissima È una persona simpaticissima Cioè nei miei video Se li vedete Andate a vedere anche i suoi Ma sono tipo gli stessi Però almeno Li date visualizzazioni anche nei suoi È simpatico Cioè ci divertiamo un casino Cosa che con altri Magari non trovo Cioè non mi diverto molto Tipo su Minecraft Io lo odio Ad esempio il gioco di Minecraft Soltanto che Dipende Con le persone con cui faccio i video Mi diverto Tipo Boxxy Gabriele Slomito Lello Quelle persone lì Quando facciamo video insieme Mi diverto O anche Zolax Ecco Se no io con Minecraft Se lo faccio da solo i giochi Sono noiosi Perché Minecraft Dopo un po' rompe le scatole ragazzi Cioè Diciamoci la verità È un gioco a cubi Quindi Io mi applico su giochi un pochettino Con grafica Cioè non mi metto mai Non penserei mai di giocare a A Minecraft Faccio queste serie Però diciamo che lo siamo come Ritrovo tra amici Si parliamo tutti su TS Cazzeggiamo Nel frattempo Vi facciamo vedere Un po' di macchinari Un po' di mod Esatto Per comunque Chi è appassionato di Minecraft E vuole seguire la nostra serie Perché Gli piace Minecraft E vuole fare Delle Diciamo Delle Come si chiama Degli episodi Magari lui apre un server Non sa come ci fa un macchinario Va a guardare i nostri due video E scopre delle cose nuove Ecco Questa è una cosa Che stiamo cercando di fare C'è un progetto Perché poi Gabriele e Slomito Stanno creando un programma Con la Turtle Che in pratica Vi può costruire anche una casa Senza problemi Lo stanno creando loro Con le mani loro Si mettono a due ore Quattro ore A costruire un programma Che magari Mancari così Sono giorni Anzi settimane Che stiamo lavorando Anzi Diciamo Slomito sta lavorando Solo per realizzare il menu Che avrà un'interfaccia grafica E non la semplice Turtle Tipo Modidos Ma proprio un'interfaccia grafica Con tanto di disegnini Precette Spiegazioni Versione Sottolivelli Sottocategorie Tutte queste cose qui Quindi ci sono Saranno anche tipo Slash help Vi dice i comandi Magari Si non è Non è proprio così Però C'è anche una roba del genere Che in pratica Sono già Più di mille righe Di codice Solo per creare il menu Quindi immaginatevi Che figata sarà Quando sarà finito E questo magari Migliorerà Magari lo useranno Anche quelli che hanno creato Tipo una mod Tipo la useranno Prenderanno la loro Magari li pagano pure Per questa cosa Non lo so No Magari Magari dicono Ma questo è una figata Noi lo facciamo a scopo gratuito Poi se qualcuno Fa qualche donazione Ben accetta Esatto Che comunque è un programma Che ci sta portando via Tanto tanto tempo E Però lo metteremo anche Gratuitamente Su Pastebin E così Anche se voi siete In un server In un qualsiasi server Che ha la computer craft Lo potete scaricare E cosa vi fa? Vi scava Vi fa un pavimento Vi fa una casa Vi fa un tunnel Molto particolare Personalizzato Può fare tante tante cose Volete per esempio Scavare solo diamanti Potete dirgli alla tarto Di scavare solo diamanti E tutto il resto Di buttarlo E o non scavarlo Cioè quindi vedete Che programma c'è ragazzi Se voi volete Un programma del genere In teoria Doveste studiarvelo voi E farvelo voi da soli Invece Gabriele e Zlomito Lo stanno facendo Proprio per questo E lo metteranno online Quando sarà finito Tutto il programma E lo potete avere Nel vostro server Mettendolo Copiandolo Nella cartella Delle mod Sì o scaricandolo Direttamente con la tarto Su pastebin Cioè più di questo Non so per cosa dirvi Ragazzi Perché una mod del genere Cioè a me vi verrebbe Cioè cose che Il vostro personaggio Di minecraft Lo fa però Ci mette più tempo Cioè voi In realtà è tutto automatizzato Esatto Vuoi che sotto terra Avete scavato un tunnel Vino sotto Vuoi che sotto terra Ti faccia una casa Un buco Una qualsiasi cosa Partiti di un colore Pavimento di un altro Tetto di un altro Ancora Si può fare Esatto Se voi volete tipo una casa Dentro l'acqua Lo può fare Perché lui ve lo E svuota anche l'acqua E svuota pure l'acqua E quindi siete a posto Cioè voi volete vivere Sotto terra Lo può fare Voi volete un tubo Che magari poi vi fa salire Su in superficie Perché siete sott'acqua Lo può fare Quindi ragazzi Più di questo Che cazzo volete Voi su minecraft Scava dall'alto al basso E dal basso all'alto Esatto O anche Vi serve legna Gli date sapling Gli date terra E lui in automatico Pianta e scava la legna Quindi vi farà Un catastro infinito Di legna Cioè ma vi rendete conto Ragazzi Che cazzo di programma Figaggine Questa cosa Cioè Voi su minecraft Dovete soltanto andare Tra un poco A prendere Soltanto da mangiare E il programma Vi fa tutto Vi ammazza anche L'enderman Tra un poco Il programma Vi prende una spada E ve lo ammazza lui L'enderman Volendo si può fare Sì Cioè Più di questo Che cosa volete su minecraft Certo voi direte Ma poi non è più minecraft Perché minecraft Che cos'è in teoria Cioè minecraft È un gioco originale Vanilla È sopravvivere È mangiare Cioè sopravvivere E uccidere Punto Non dovete fare nient'altro Quindi questa mod Sì perché sul vanilla Cosa fai Scavi diamanti Ti fai full diamond E poi Poi dopo Finito il gioco Finito il gioco Invece su Questa mod Vi fa tutto Ma nel mentre Voi dovete creare i macchinari Quindi dovete creare Tipo il Quella Cos'è nel sesto O nel quarto episodio Adesso non mi ricordo Abbiamo fatto maceratore La fornace di redstone Che avevamo fatto Quella Le mega fornaci Il query Di tutto Eh poi no Ma cosa abbiamo fatto Che era nel terzo O nel quarto episodio Quello che tu In pratica Butti la terra E ti fa fare un diamante Per esempio Ah quello è L'energy collector Una roba del genere Adesso non mi ricordo il nome Esatto Che in pratica Voi mettete un oggetto Mettete tipo Sì mettete per dirvi 8000 e passa Blocchetti di terra E vi da un diamante Esatto Potete duplicare gli oggetti Potete duplicare gli oggetti Cioè voi mettete tipo Un lingotto di ferro Sopra Nel quadratino Nel quadratino di sopra Voi vi fate Un macchino Che noi l'abbiamo fatto così In poche parole Abbiamo fatto Un Una specie di tubo Dove mettiamo lava E Lava e acqua Generatore di cobblestone Esatto Generatore di cobblestone Automatizzato Automatizzato L'abbiamo messo L'abbiamo messo sul macchinario Lì E lui in pratica Prende direttamente La terra Dall'infinity Diciamo Dove ti fa La cobblestone infinita E In pratica Noi non dobbiamo stare Tutto il tempo A mettere noi La roba dentro Lo mette lui direttamente Perché Quel macchinario Ti fa la cobblestone infinita Avete capito L'abbè Voi sapete fare Una cobblestone infinita Se volete capire meglio Visto che Ha parole Difficile Guardate i nostri video Esatto Perché tanto Non è difficile Fare una cobblestone infinita L'unica differenza È che voi dovete scavare Un'evolta la cobblestone Si ricrea Si scava Devi rispaccare Di nuovo Si ricrea Invece Con questa cosa Noi l'abbiamo creata In modo tale Che va direttamente Sul macchinario Le fa veloci E Ne fa 64 Uno stack Da 64 Ogni volta E noi dobbiamo stare Tutto il tempo Lì A fare Spaccare noi E fare Mettere la pietra Nel macchinario Spettare Spaccare Dimettere Invece fa direttamente Tutto lui E Si ricarica In un server Che è aperto 24 ore Tornate il giorno dopo Che magari avete Uno stack di diamanti Gratis Esatto Perché poi Ne abbiamo creato Altri di questi cosi Cioè ne abbiamo fatto Un casino Ne abbiamo fatto Credo 4 o 8 Se non mi ricordo No Sono 3 per 4 Sono 3 strutture Da 4 per struttura Esatto Quindi immaginatevi Che ci dovrebbe arrivare In teoria 4 stack Da 64 di pietra Quindi noi In volta che arriva A 4 stack di pietra Quello si ricarica E ci riempie La barra del caricamento E quando finisce Ci arriverà E ci arriverà Un diamante Quindi più ne fai Meglio è Perché più si velocizza Il caricamento In poche parole Giusto Quindi dopo aver detto Tutte queste cose Novità Cosa farò nel mio canale Perché Nel mio canale Ci saranno Tipo La faccia invisibile Ogni tanto Vedrete in giro Vabbè Non sempre Se non poi soffoca E muore E non fa più video Esatto Perché sto cercando Non si respira Perché fa caldo Soprattutto sta cosa Però Ci saranno alcune volte Video così Alcune volte Adesso in questa serie Metterò solo DNS Touchpack E magari una puntata Di Amnesia ogni tanto Perché Amnesia Sta per finire Cioè 4 episodi Avete finito Dopo quelli Basta Gritto il gioco Quindi Sto mettendo DNS Touchpack Perché è nuova la serie Quindi caricheremo solo quelli Quindi andate a vedere Il mio canale È quello di Gabriele PRG Che lo leggete In basso a destra Leggete Disegnato By PRG Scrivete soltanto Gabriele Tutto attaccato PRG E trovate il suo canale Perché io l'ho scritto Anche staccato E non l'ho trovato Il tuo È strano Eh no Staccato no E quindi Vete scriverlo Tutto attaccato Scrivete Gabriele PRG Che PRG Cosa sta PRG in pratica è Il mio nome Il mio cognome Miti Tipo quasi a modi Codice fiscale Lui si chiama tipo Gabriele Patruno Giusto Giusto Quindi la P E la R Sono del mio cognome E la G È l'iniziale del mio nome Quindi voi andate a cercare Gabriele PRG E troverete il suo canale Poi iscrivetevi Perché mi farebbe piacere Che i miei iscritti Quelli fedeli Diciamo Che mi seguono E speriamo che commentino ancora Anche quelli che non stanno commentando Ma guardano il video Non commentano E mettono mi piace Perché vedo che Comunque nel mio canale Ci sono 100 visualizzazioni E passa Però vedo 5-6 commenti I soliti Se commentate ogni tanto Mi farebbe piacere Perché non vi mangio Cioè Sono una persona Anzi Se volete fare dei video con me Lo faccio Non ho problemi Cioè a me Non vi mangio Come volevo dire E quindi Se volete fare Volete commentare Ogni tanto Scrivere Che ne so Bella serie Comunque Bravo Bayond Queste cose qua Mi farebbe piacere Comunque E se vi iscrivete Pure al canale di Gabriele E gli date anche Magari un po' di visualizzazioni Perché merita A me mi farebbe Soltanto felice Io Volevo solo dire Un grazie Sia a tutti voi Che ci seguite Che mi seguite Che lo seguite Sia un grazie A Bayond Che mi sta dando Una mano A crescere Esatto Su Youtube Perché in realtà Sono due metri Io e lui saremo Credo la copia fissa A parte io e boxy Ma comunque Sì ma Su Youtube Non capite male Non capite male Perché sennò Vi prende a schiaffi Allora comunque Come stavo dicendo Sì ogni tanto Mi tocco Perché parte Il green screen Maledetto Maledetto Che mi metto così Così non dovrebbe scappare Comunque Io e lui saremo La copia fissa Su DNS Stretchpack O le serie di Minecraft Tipo Quelle da creare Manchi Ingenio Comunque altri giochi Magari che ci verranno in mente Magari che ne so Vorremmo fare Una serie su Dragon Ball Fanabout O Dragon Ball Budokite KC3 Non so Un esempio Magari lo facciamo Io e Gabriele E ci mettiamo lì A fare la serie Cioè adesso Stiamo facendo solo DNS Stretchpack E credo che durerà Un casino Quella serie Eh sì Se voi volete vedere Tutte le mod E ovviamente Commentate per farcelo sapere Noi ve le faremo Vedere tutte Esatto Diventerà molto lunga Abbastanza lunga La cosa Perché Troppo lunga Troppo lunga Infatti Ragazzi dovrete Sopportare le piccole cose Della vita Cioè come per dire Quindi anche noi Purtroppo Registriamo un'ora Un'ora e mezza Poi per non Annoiarvi Velocizziamo i pezzi Li tagliamo Quelli in più Moshe Però siamo sempre Minimo su Da mezz'ora A 45 minuti Esatto Però meno di quello Non vedete niente Perché il tempo che Solo creiamo un macchinario Come avete visto Ci va Mezz'ora Un'ora Un'ora E poi Dobbiamo fare Tanti episodi Perché comunque Le mod Sono tante E quindi Capiteci Se vi piace Ovviamente Seguiteci Perché È una Una mod Veramente complessa Esatto E poi soprattutto Anche se ci mettiamo Tanto ragazzi Dovete capire Che questo Tipo di serie Non puoi farla Da 20 minuti Impossibile Cioè 30-40 minuti Massimo Perché Noi ci mettiamo Un'ora A fare il video Però poi Lo velocizziamo E tagliamo tutto Quindi alla fine Le cose che è Le più importanti Le mettiamo sul video Quindi ci mettiamo Anche noi abbastanza Ci mettiamo Un bel po' Per fare Montaggio e tutto Tutto per darvi Il massimo Del video E non farvi sopportare Tipo le scene Dove andiamo a scavare E che quello A voi non frega niente Se noi andiamo a scavare Perché non stiamo rubando Sicuramente Perché Fa tutto la tartal Ormai Quindi E adesso La tartal Le query Noi proprio Quasi non picconiamo più Esatto Perché adesso Con quel macchinario Dove noi mettiamo Tipo il ferro E con quello lì Quando sta mettendo la pietra Ci fa ferro Quasi infinito Perché ce lo fa veloce Cioè Noi non dobbiamo più scavare Cioè Noi basta che mettiamo Un oggetto Lui ce lo moltiplica Quindi alla fine Noi non scaviamo Mai più ormai Dovremmo andare a scavare Visto che Abbiamo usato il carbone E nessuno Si è Degnato Di lasciarne uno Per duplicarlo Quindi dovremmo Almeno il carbone Andarlo a cercare Esatto Solo il carbone Dobbiamo andare a cercare Cioè basta prenderne solo uno E si moltiplica Un casino Cioè il carbone Quanto sarà potente Un PV10 Non so se è 64 o 128 Ok se è 64 Il macchinario Può arrivare al massimo A 8000 Immaginatevi No può arrivare A molto di più Diciamo che l'8000 E il diamante 8000 è qualcosa Che è L'item Più caro Più caro Però anche se Non mettete item A duplicare Lui continuerà Ad accumulare Energia All'interno di lui Poi vi farò vedere Magari Nei prossimi episodi Che si può fare Anche l'energy Container Che tutta Quell'energia Che ha accumulato lui Se la scarica dentro Per essere sempre Libro e generarne Altra Esatto Perché così Se noi abbiamo Mettiamo un pezzo Di Come si chiama Di carbone Sul macchinario Lui è carico Tipo Adesso mettiamo Un esempio 8000 Che sarebbe Quello diciamo Più Ti fa 3 milioni Di stack Di carbone Ti fa quasi 3000 Anzi Magari te ne fa 40 o 50 Stack Da 64 Di carbone Adesso non so Precisamente la cifra Però comunque Siamo lì Quindi immagino Avremo carbone A Popom Proprio così Al massimo E quindi ragazzi Io spero che seguirete Il canale di Gabriele E che andate a commentare Perché se poi voi Andate a commentare Solo il suo canale A me non mi cagate Di striscio Meglio No dai Cioè Ve lo dico sinceramente Cioè io preferirei Che andate a guardare Anche altri canali Che magari non conoscete Questo che voglio Voglio dirvi appunto Gabriele Non lo conoscono Perché è all'inizio Però ragazzi È bravissimo Cioè Sacco di cose Quindi se vi iscrivete Al suo canale Mi farebbe piacere Perché potete scoprire cose Che magari in un altro canale Che voi conoscete Che ha magari 6.000 iscritti Non può fare Quindi perché Gabriele Ogni volta si fa cose nuove Cosa che gli altri Non fanno invece Quindi ragazzi Ve lo consiglio Iscrivetevi e guardate i suoi video Guarda Colgo l'occasione Per dire una cosa Se per caso Volete Tutorial Su come fare Determinate cose Io e Bayon Le facciamo Io vi dico Sono tecnico informatico Da 15 anni Quindi se vi serve Un aiuto Anche sul computer Noi vi facciamo Anche un tutorial Come magari Aprirvi un'email Come creare un server Minecraft Come togliere Un sito internet Come togliere virus Quali sono i programmi migliori E io ho appena scoperto Che non dovete mai Scaricare Da softsonic.it Softtonic Come si chiama quello Non scaricate mai più Ok I miei occhiali Stavano andando a farsi fottere Bene Comunque Non scaricate più Quindi ragazzi Che dirvi ancora Grazie di tutto Cioè Gabriele vi dice tutto Se volete Togliere i virus Al 100% Lui vi guarda Vi può dire tutto Comodo Tutti i programmi Che io non conoscevo Adesso non ho più Un virus Nel mio computer Cioè va al massimo Quel computer Meno male Sono contento Cioè io non Il mio computer Adesso si può fare Anche una pippa Se vuole Credo Va bene dai Salutiamo Perché se no Li annoiamo troppo E poi ci ritroffi Non mi piace E se nel video Ti ho dato 30 minuti Di video Quindi è meglio Non farvi sopportare Il video così troppo a lungo Quindi ragazzi Da Bayon Community E Gabriele PRG È tutto ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Che sarà di NSTech Di nuovo Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti